Ne ha facoltà per sette minuti. La ringrazio, Presidente, colleghi, signor Presidente del Consiglio, ministri. Chi le parla, Presidente, fa parte di quel 41% di iscritti al Movimento 5 Stelle che ha votato contro un nostro appoggio al suo Governo. Una votazione in cui ha vinto il sì e da portavoce onorerò quel voto, anche se la penso diversamente. Ma sia chiaro, la nostra non sarà una fiducia incondizionata, bensì una fiducia ponderata sulle azioni che questo Governo intraprenderà già a partire dai prossimi giorni. Presidente, lei ha certamente avuto un'importante e prestigiosa carriera. Tra i suoi interlocutori ricorrenti ci sono stati uomini tra i più ricchi e potenti della Terra, una ristrettissima percentuale di persone che ha sempre contato, ha influito moltissimo, soprattutto in politica. Ed è proprio l'influenza di questi pochi che spesso ha portato ad avere Parlamenti rappresentativi più degli interessi di alcuni che della stragrande maggioranza dei cittadini, della gente normale. Ed è su queste macerie che è nato il Movimento 5 Stelle, esattamente per dare rappresentatività a quelle milioni di persone, a quei milioni di italiani che in queste aule non facevano sentire la propria voce. Così è nato il reddito di cittadinanza, che lei ha detto di voler difendere, anche se non l'ha specificato nel suo intervento di oggi. Così è nato il superbonus 110% per far ripartire l'economia in maniera sostenibile, anche se nel suo intervento oggi non l'ha ricordato. Ci aspettiamo, Presidente, che lei prosegua questo lavoro per dare risposte concrete a tutto il popolo italiano, non solo all'elite. Non ci sono più soli banchieri e grandi investitori finanziari con cui lei ha avuto a che fare in passato e che, quando stava in Banca d'Italia, avrebbe certamente potuto e dovuto controllare meglio e di più. Vede, Presidente, che ha creato la più folle ed immotivata crisi di governo della storia, quando sedeva al suo posto emanava provvedimenti che salvavano i banchieri, mettevano in mezzo una strada i piccoli investitori. Quando siamo arrivati noi al governo abbiamo risarcito i truffati dalle banche. Presidente, certamente sa che in questi due anni abbiamo approvato un'importante legge anticorruzione, abbiamo tagliato i parlamentari alle pensioni d'oro, abbiamo bloccato i tagli alla sanità e investito nuovamente nella scuola. E nel compiere tutte queste azioni avevamo ben in mente da che parte stare. Ora, Presidente, ci aspettiamo che anche lei scelga di stare dalla parte del popolo italiano, non come quando, da direttore generale del Ministero del Tesoro, portò a compimento la scelta politica anti-italiana delle privatizzazioni indiscriminate. Allora era un tecnico, lo sappiamo, Presidente, che attuava a livello amministrativo l'indirizzo politico indicato dai governi dell'epoca. Ora, però, l'indirizzo politico dovrà essere necessariamente diverso, e lo deve dare lei. Quindi le chiedo, da che parte vuole stare? Dalla parte di chi fa leggi salvabanche? O dalla parte di chi, come noi, salve i truffati e vuole una banca pubblica di investimento per le piccole e medie imprese? Lei che cosa vuole fare, Presidente? Continuare a far proliferare il capitalismo di relazione dei peggiori? Oppure puntare sull'economia sostenibile dei migliori? E ancora, da che parte starà nel prossimo dossier, nel dossier Benetton-Atlantia? Dalla parte dei potentissimi concessionari o dalla parte degli utenti della strada? Perché per mancanza di manutenzione si sono visti crollare un ponte sotto i piedi. Vede, Presidente, poco distante da dove si trova lei adesso seduto, sottoscritto dal Ministro dei Trasporti, a Gioito per aver fatto approvare il decreto Genova, dando una spallata all'onnipotente, fino ad allora, sistema dei concessionari autostradali. Questa è imperdonabile colpa, e lo so. Ha permesso di far costruire in tempi record il nuovo ponte, facendolo pagare chi per incurie e bramosia di denaro l'aveva fatto crollare. Un decreto che ha permesso di aiutare centinaia di famiglie, dando loro una nuova casa. E sai come abbiamo fatto? Semplice. Abbiamo deciso di stare dalla parte di chi aveva ragione, la gente normale che soffriva e lottava per rialzarsi dopo la tragedia. Non ci siamo fatti guidare o condizionare dai soldi e dal potere dei colossi del casello. Quei soldi che invece troppo spesso, legittimamente, ma per questo non meno vergognosamente, sono entrati nelle casse di tutti i partiti. Presidente, immagino si sia accorto, anche lei, che c'è un pezzo di politica che oggi sta lottando in tutti i modi per poter mettere le mani sui fondi del recovery plan. Non permetta loro di gettare al vento lo straordinario lavoro fatto dal suo predecessore Giuseppe Conte, che quei fondi in Europa li ha ottenuti. Queste risorse sono la chiave per la ripartenza del nostro Paese, sono la chiave per la transizione ecologica che lei ci ha promesso e che non deve rimanere solo sulla carta. Vede, Presidente, noi non accetteremo che si torni indietro su quanto fatto. Davanti a noi ci sono impegni importanti da perseguire. Il più urgente ovviamente è la lotta contro la pandemia, ma subito dopo ci sono i ristori alle imprese, che devono essere immediati e corposi. Servono però anche altre di riforme, da quella della RAI a quella dell'editoria. Serve una legge sul conflitto di interessi e serve ridurre le disuguaglianze introducendo il salario minimo. Ci vogliamo provare e le chiediamo di lavorare per costruire una maggioranza anche su questi gli argomenti, consapevoli però che a sostenerla ci sono soggetti che vedono queste riforme come fumo negli occhi. Ci sono persone, e parla l'esperienza per me, capaci di mentire, tradire come nulla fosse ed un istante dopo con il candore di un bambino andare davanti all'obiettivo di una telecamera e dichiarare la propria innocenza e la propria buona fede e ne stia attento di queste persone. Vede, Presidente, concludo, nel mio intervento ho parlato solo di fatti, perché è su questi che valuteremo se continuare a sostenere il suo Governo, giorno per giorno, emendamento per emendamento, provvedimento per provvedimento. E nell'attesa di poter discutere questi provvedimenti le auguro e le auguriamo buona fortuna. Ne avrà certamente bisogno. La ringrazio.